Benvenuti da NDS, che troverete al padiglione 2 D14, dove Sergio vi illustrerà tutte le novità per il 2022. Ciao a tutti, le novità per quest'anno sono veramente tante, però vi consigliamo di venire allo stand per vedere tutte quante. Assolutamente il nostro sistema di connessione tra dispositivi chiamato NBUS, sicuramente la nostra nuova batteria litio e il DC-DC da 80A, quindi potete caricare 80A per ogni ora di viaggio. Poi abbiamo novità pannelli? I pannelli solari sono quelli che avete visto fino adesso, quindi abbiamo pannelli rigidi, pannelli flessibili e pannelli leggeri a seconda delle necessità del camper, quindi in base a quello di cui avete bisogno potete tranquillamente scegliere il vostro pannello, anche il regolatore di carica è all'interno del nuovo sistema di comunicazione NBUS e quindi vi consigliamo assolutamente di venire a vedere tutto quanto il sistema, perché in pochi secondi è difficile spiegarlo, ma guardarlo all'interno dello stand è molto semplice. Benissimo, anche perché qui toccherete con mano la qualità dei prodotti e Sergio vi potrà fare un preventivo su misura per il vostro impianto. Grazie a tutti.